Cane è serviziato, pena, solo quattro mesi di lavori socialmente utili, multa per i responsabili. Lo avevano incatenato a tal punto da causargli ferite profondissime, abbandonate a se stesso tra i suoi escrementi. Questo è il trattamento riservato a Ercole, cane salvato in estremisi nel marzo scorso a Siracusa grazie all'intervento della sede LAV locale che lo ha recuperato e ha sporto denuncia. Ercole ci è stato affidato e tuttora ci stiamo occupando del suo recupero fisico e psicologico. Il Tribunale di Siracusa ha ammesso gli indagati alla messa alla prova per la durata di quattro mesi ordinando loro il pagamento di 500 euro. È una pena ridicola per chi ha commesso un atto di puro sadismo nei confronti di un animale. Ercole non è morto tra atroci e sofferenze solo grazie all'intervento dei volontari LAV ma porta ancora profonde cicatrici sia nel corpo che nella psiche per il dolore e il trauma che ha subito. Nonostante la nostra posizione alla concessione della messa alla prova tramite deposito di una memoria è stata ancora una volta concessa questa modalità di estinzione del reato che non dovrebbe essere prevista per i reati contro gli esseri viventi il cui valore viene svilito al pari di meri oggetti.